Maria De Filippi, il gesto da brividi alla figlia di Maurizio Costanzo. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. A un anno esatto dalla scomparsa del grande Maurizio Costanzo, il 20 febbraio in prima serata su Canale 5, è andato in onda uno speciale che ha fatto emozionare tutto il pubblico in teatro e a casa. Intitolato In ricordo di Maurizio Costanzo, questo straordinario evento televisivo è stato condotto da due icone del piccolo schermo, Fabio Fazio e Maria De Filippi. Ma non è stato solo il programma a catturare l'attenzione, bensì il luogo stesso in cui si è svolto. Il Teatro Parioli di Roma, ribattezzato recentemente come Teatro Parioli Costanzo in onore del celebre conduttore. Durante la trasmissione, che ha riportato alla mente i bei tempi del Maurizio Costanzo Show, è intervenuta anche la figlia del compianto giornalista, Camilla Costanzo. La sua presenza ha aggiunto un tocco di commozione in un'atmosfera già densa di emozioni. Ma il momento più toccante è stato quando Maria De Filippi, legata a Maurizio da un affetto sincero, ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Senza dire una parola, Maria ha stretto forte Camilla in un abbraccio caloroso e le ha donato un mazzo di fiori. Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha reso tangibile il legame indissolubile tra la conduttrice e la famiglia di Maurizio. In quegli istanti, il teatro è stato pervaso da un silenzio solenne, interrotto solo dal suono dei singhiozzi e dalle lacrime che scorrevano liberamente sulle guance degli spettatori. Grazie per la visione!